Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato, Yardforex.com e in questo video voglio spiegarti in linea di massima con un bel esempio che cosa cerco quando vado a tradare le indecision bar Mi è stato chiesto in uno degli ultimi commenti nei video tecnici da uno di voi e quindi prendo la palla al balzo, trovo tra l'altro un indecision bar di quelle che ho tradato proprio nell'ultimo periodo, lo avrete visto nei video del diario di bordo 2020 una delle mie ultime operazioni, tra l'altro dove ho guadagnato oltre un 1 a 3 di risk reward è proprio stata fatta con un'impostazione sul daily con un indecision bar come potete vedere sono fermo qui su sterlina yen sterlina yen che nell'ultimo periodo aveva prodotto una struttura rialzista molto chiara quindi avevamo un grafico che da sinistra a destra produceva dei minimi e dei massimi di swing molto chiari quindi molto semplice, pavimento eccetera eccetera e proprio in questa giornata qui, che poi dopo io ho tradato successivamente ovviamente nei giorni successivi con questo movimento che poi è stato fatto in tre giorni in realtà si erano creati i presupposti per un'entrata allora la barra di decisione è quella tipo di barra che tendenzialmente ha apertura e chiusura che o sono uguali, quindi non hanno una differenza di prezzo praticamente o ce l'hanno molto molto lieve oppure hanno una lievissima differenza di prezzo la barra di decisione non ha solitamente una volatilità troppo ampia cioè non è una cosa di questo tipo non è troppo ampia deve essere solitamente medio piccola come volatilità e deve darci diciamo come dire la conferma che sul suo breakout ci possa essere un movimento e questa conferma si ha per esempio con lo studio della struttura precedente esempio in questo caso specifico avevamo una tendenza long avevamo avuto una tenuta con questa pin dei pin inside breakout del livello quindi avevamo svariate confluenze di prezzo e successivamente si è venuta a creare soprattutto questa anche questa qui è una semi indecision questa qui è proprio le caratteristiche dell'indecision quindi barra che ha uno spike da una parte e dall'altra con una chiusura e apertura molto simili che tiene i livelli di pavimento vedete quindi tiene delle aree ci mostra che questo mercato consolida al di sopra di certi livelli price action questa qui è price action ragazzi keep it simple direi anche quindi manteniamolo semplice quindi rompe si mantiene quindi vuol dire che c'è che c'è sostenimento della domanda ok la domanda di sterlina yen viene sostenuta dai compratori e crea una delle price action diciamo in generale qui c'è stato veramente anzi facciamo così un setup totale perché in questo caso c'era una inside fake out c'era una pin poi c'è stata una inside poi una indecision bar quindi c'è stato un mix di trigger del mio piano che confermava l'acquisto tant'è che poi noi abbiamo acquistato e in questo caso specifico diciamo che il breakout dei massimi crea la convalida del setup che poi dopo rompe i massimi anche della pin in questo caso è in inside fake out però è stato rotto il massimo dell'indecision bar io in questo caso in realtà sono andato poi sul 4 ore a comprare quindi il giorno successivo poi comunque in questi giorni avevo cercato degli acquisti in realtà io forse non ricordo se sono entrato su questa indecision bar o su questa questa qui è ancora più perfetta una delle due sono entrato avevo già una bella configurazione e sono entrato su 4 ore addirittura quindi ho deciso poi il giorno dopo con pazienza di attendere una conferma su 4 ore che mi ha dato come facciamo spesso noi sul platino questa tra l'altro è un'operazione che ho condiviso con gli utenti del platino sul nostro canale telegram di entrare quindi sono entrato con una dinamica a 4 ore che sosteneva appunto gli acquisti e quindi ho avuto uno stop veramente ridicolo però si può già tradare direttamente anche sul daily io sapete che preferisco tradare le conferme a 4 ore per tanti motivi ma in questo caso tradare per esempio l'acquisto quindi il buy direttamente qui con uno stop loss direttamente su questi livelli va più che bene e si può andare a cercare i target sui livelli che confluiscono con con il setup quindi in questo caso se vado a prendere ecco qui i livelli vedete che abbiamo per esempio un T7 che arriva poco sotto i livelli più importanti o un T5 che arriva poco sotto i livelli importanti quindi diciamo che questa zona o questa zona che sono anche confluenti con i target di estensione sono la cosa migliore da fare in realtà in questo setup diciamo che la barra che ci dava esattamente il movimento di estensione in questo caso perché prima c'è una pin poteva essere la pin quindi ecco che qui avevamo un T5 dove noi poi abbiamo preso profitto proprio a 137,95 e poi un T6 a 138,90 vedete che sono perfetti quindi combaciavano anche qui con i livelli nostri di estensione che poi sono stati anche presi e quindi in questo caso si può poi sia con l'entrata con una conferma a 4 ore che c'è stata anche più di una volta in realtà e sia con invece l'entrata direttamente sul setup daily qua ne avevamo avute due di barra decisione più ripeto una pin bar più un inside fake out avevamo svariati punti di entry e comunque trigger soprattutto quindi confluenze qui proprio numerose che ci permettevano appunto anche di avere il nostro target su uno dei due livelli T5 e T6 che combaciavano con i livelli weekly di importanza i livelli di offerta quindi ecco la barra decisione diciamo che linea di massima deve essere vista come una barra di in questo caso come continuazione quindi c'è un setup di come come questa no anche questa è una barra di indecision bar una barra di decisione dopo pin bar è ovvio che qui arrivavamo sotto un po' sotto i livelli precedenti importanti di vendita quindi qui dobbiamo avere un po' più attenzione invece in questo caso qui infatti io questa non l'ho tradata questa non l'ho tradata ma si poteva trovare magari delle conferme io questa ovviamente non l'ho tradata per i motivi che vi ho appena spiegato arriviamo in una struttura un po' più delicata sotto delle aree di possibile vendita qui invece arriviamo sopra delle aree di acquisto quindi sostenuta c'era la domanda sostenuta prezzo che consolidava al di sopra dei livelli e quindi domanda che continua e setup confluenti che ci indicavano la stessa cosa noi queste cose sul nostro su nostro platino sulla nostra scuola platino le vediamo ogni giorno le tradiamo le capiamo cerchiamo di tradare con razionalità perché tradare di impulsi ovviamente si creano solo dei danni quindi se volete sapete che c'è spazio per tutti la scuola platino sta avendo sempre più studenti siamo molto contenti poi molti degli studenti platino stanno avendo degli ottimi risultati noi stiamo avendo degli ottimi risultati ma sono molto molto contento di questo e nella nostra scuola appunto potete ogni giorno vedere come affrontiamo il mercato su queste per esempio su alcune di queste dinamiche bene io a questo punto direi che anche per oggi ho finito vi chiedo di lasciare un bel like su questo video di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vedremo al prossimo video grazie a tutti un saluto